Nell'ultimo canto del paradiso, Dante porta a compimento il suo viaggio con l'esperienza mistica della visione di Dio, che potrà tuttavia riferire solo in parte, come un sogno o un ricordo della primissima infanzia. San Bernardo rivolge una preghiera alla Vergine, affinché possa consentire a Dante di sostenere la vista della luce divina. In questo inno sublime, ricco di contrasti e paradossi, a Maria Vergine e Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta, Dante concentra nel fuoco della poesia secoli di riflessioni teologiche e di devozione mariana. Il santo riepiloga il viaggio del poeta nei tre regni dell'oltretomba e manifesta un forte desiderio di vedere superati i suoi limiti di mortale, mantenendo poi pure le sue inclinazioni dopo questa esperienza sovrumana. L'espressione suave di Maria rivela il suo gradimento per le preghiere del santo. Gli occhi della Vergine si volgono allora da San Bernardo alla luce eterna di Dio. Giunto al culmine del desiderio umano, Dante spegne ogni ardore in una pace contemplativa, levando una preghiera, perché con i suoi versi possa in seguito riferire l'esperienza che ha vissuto. Il suo sguardo è ormai rivolto verso Dio. I suoi occhi, per grazia divina, invece di rimanere abbagliati, si rafforzano e sempre di più sono attratti da quella luce, che è anche bene e perfezione. Tutti gli elementi, le sostanze e gli accidenti sparsi nell'universo ritrovano un'amirabile unità nel punto cosmico in cui appare Dio. Dante raggiunge la visione del mistero supremo e fondante della Trinità. Le tre persone divine appaiono come tre cerchi di tre colori, della stessa dimensione, che si riflettono tra loro. Dante scorge un volto umano nel cerchio del figlio, che pare generarsi da quello del padre, mentre quello dello Spirito Santo sembra fuoco che spira dai primi due. Mentre sta contemplando il mistero dell'incarnazione, in cui Dio assume forma umana, Dante prova la beatitudine, entrando a far parte dell'armonia del cielo, mossa dall'amore divino. L'amor che muove il sole e le altre stelle.